Circa 23 kg di hashish per un valore al dettaglio di quasi 250.000 euro, ma anche 38.000 euro in contanti contenuti in una cassaforte, il tutto nascosto in un ripostiglio a Minervino Murgio, dove i carabinieri hanno arrestato un 35enne incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le operazioni sono state coordinate dalla compagnia di Andria ed eseguite dai militari del nucleo operativo di Minervino, coadiuvati da un'unità cinofila di Modugno. I carabinieri, durante un controllo di rutina, hanno deciso di sottoporre a perquisizione un giovane incensurato, 35enne, originario di Cerignola, ma residente nella cittadina murgiana, operaio presso un oleificio locale. Fin dalle prime operazioni evidente è stata l'agitazione dell'uomo che, a seguito del controllo anche del proprio motoveicolo, è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina e occultato sotto il sellino un pezzo di hashish del peso di circa 20 grammi. La perquisizione, vista la droga in possesso dell'uomo, è stata estesa anche alla propria abitazione. Nel ripostiglio sono state individuate due valigie chiuse con un lucchetto, la cui chiave era in possesso proprio dell'uomo. E vista l'insistenza dell'unità cinofila, si è proceduto ad aprirle, scovando ben 56 panetti di hashish del peso di circa 450 grammi l'uno, rivestiti in celofane pronti per la grande distribuzione presso altre piazze del narcotraffico. Ampio il volume d'affari dello smercio da lui gestito. All'interno di una piccola cassaforte domestica, infatti, sono stati rinvenuti ben 38 mila euro in contanti, sottoposti a sequestro poiché ritenuti il provento dell'attività delittuosa. Il giovane, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, su disposizione della procura di Trani, è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione dei carabinieri, invece, ha permesso di infliggere un duro colpo allo smercio di stupefacenti nell'area murgiana, rivelatasi avamposto dello smistamento di droga per altre località del territorio nazionale.